Ciao a tutti, una nuova settimana incomincia oggi, lunedì 19 novembre 2018, iniziamo subito con le skills, dovremo costruire un set di tre overhead squat, a seguire subito dopo il WOD che è Nancy, quindi un benchmark WOD, sono 5 round for time, 400 metri di corsa e 15 overhead squat, per quanto riguarda peso e scalature, come al solito la grafica qui di fianco è tutto per oggi, ci vediamo domani su Ciper TV, mi raccomando seguiteci su Instagram dove troverete i riscaldamenti e la spiegazione delle classi, ciao!